Oggi il video parte dal magazzino che sarebbe parte del mio soggiorno a casa dei miei poveretti comunque ho selezionato questa scatola perché vado a vendere un oggetto che ho acquistato ma non ho mai utilizzato come sempre vi ricordo che se vi va possiamo scambiarci i nostri vintage nei commenti questa piastra super in voga al momento ma credo abbia i pistoni come vogliamo chiamarli troppo piccoli e non mi piace l'effetto sui miei capelli quindi l'ho venduta semplicemente oggi ho scelto prima gli omaggi e vista la spesa non eccessiva ho preso due cosine piccoline ma veramente deliziose quindi una matita di Kiko che non utilizzo ed è chiusa ovviamente e questi adesivi di essence perline e cose varie qui stavo litigando con lo scotch perché è veramente odioso stavo cercando anche di impacchettare la piastra alla fine dopo mille peripezie ci sono riuscita che poi si chiama sempre piastra visto che non piastra fatemelo sapere la scatola mi sembrava un pochino grande però me la sono fatta andare bene ho messo della carta per non far ballare il tutto e infine ancora carta e infine ho messo il pacchetto tutto sistemato bene bene altra carta per non far ballare il tutto e non far prendere urti al pacco all'oggetto all'interno del pacco poi gli omaggio ovviamente ho richiuso tutto bene bene ecco qui era tutto sfracellato questo pacco vabbè comunque sono dovuta stare molto attenta alla fine sono riuscita a impacchettare tutto ho messo l'etichetta e spero ti piaccia ciao